L'osmometro Criobasic 1 è in grado di effettuare analisi anche su campioni in quantità ridotta. Per questo è la soluzione ideale per applicazioni nel settore farmaceutico, negli ospedali o nei laboratori di diagnostica clinica. Pronto in soli 5 minuti, basta riempire una provetta con 50 microlitri di campione e inserirla all'interno del condotto. Premere il tasto Start e in seguito lo strumento effettuerà automaticamente la misurazione grazie al completo controllo da parte del software e il risultato verrà poi visualizzato in meno di 3 minuti. Al termine dell'analisi, la testina si alzerà automaticamente. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.storioscar.com www.storioscar.com.info.com